Quante volte noi possessori di Nintendo Switch abbiamo sentito parlare di Joy-Con Drift? Spoiler alert! Fin troppe volte! Buon salve a tutti amici, io sono Am e benvenuti in un piccolo video in cui dobbiamo andare a parlare di una delle notizie uscite proprio in questi giorni e cioè quella che riguarda i Joy-Con Drift, che sembra, sembra, essere stati sistemati da Nintendo. Nel corso della settimana, un utente di Twitter chiamato MalerPgFan aveva infatti pubblicato un'immagine dell'interno dei suoi Joy-Con di Zelda. Quelli di Skyward Sword che avete visto, vi faccio vedere qui e che ho fatto vedere anche nell'unboxing veloce. L'utente ha notato che dentro questi Joy-Con di Zelda erano presenti due piccole strisce di foam che nei vecchi Joy-Con, nei suoi vecchi Joy-Con, non erano presenti. Questo Mario RPG Fan ha secondo me supposto che questi tipi di fogli di foam erano stati aggiunti da Nintendo per poter sistemare una volta per tutte il problema del Joy-Con Drift. La notizia era stata presa sicuramente con molta molta felicità, considerando che effettivamente, oramai, negli ultimi Joy-Con, come soprattutto questi di Zelda, ma anche quelli che utilizzo regolarmente, cioè quelli viola e arancioni, non ho avuto problemi di drift. Ma ovviamente, dalla iniziale eccitazione di questo possibile fix una volta per tutte di Nintendo, che Nintendo non ha mai voluto dichiarare, perché sennò sarebbe come dichiarare che hanno non truffato, ma quasi i propri utenti attraverso questo drift, è stato scoperto in maniera molto semplice che questo fix è fatto da Nintendo oramai dall'epoca del 2019, che poi è epoca, cioè da due anni. Lo youtuber Spanwave, che io seguo regolarmente, ha infatti aperto i suoi Joy-Con arancioni e viola, ed è venuto fuori che questi fogli di foam erano presenti anche in quei Joy-Con usciti appunto nel 2019. Quindi, se avete preso un paio di Joy-Con usciti dal 2019 in poi, questo tipo di fix non è una novità, potreste averlo probabilmente anche dentro i vostri Joy-Con, anche se avete preso la Switch proprio del 2019. Questo sistema al problema? No. Per molti no, perché probabilmente dal 2019 a quest'oggi comunque dei Joy-Con hanno iniziato a driftare. Ergo, è una soluzione veramente blanda da parte di Nintendo per cercare di risolvere un problema che difficilmente si risolverà. Nel corso del mese, infatti, è uscita un'altra notizia per cui lo youtubers VK ha trovato una soluzione a questo Joy-Con drift, in maniera anche molto semplice. Nel video di VK, che vi lascio sotto in descrizione, e se volete vedere la soluzione potete andare direttamente al minuto 5.55, si vede il caro VK aprire in questo caso i Joy-Con e mettere semplicemente un pezzo di carta di un millimetro dietro l'analogico. Basta quindi un pezzo di cartone veramente molto molto semplice, in modo così da fermare e bloccare definitivamente il Joy-Con drift. In molti che hanno già provato la soluzione hanno voluto sottolineare come dopo il chiudere i Joy-Con diventa sicuramente un pochino più difficile, perché comunque c'è questo un millimetro di carta che crea comunque dello spessore. Ma attraverso adesso, definitivamente, si sconfigge il Joy-Con drift. Una soluzione semplice, una soluzione che tutti possono fare, e una soluzione che sicuramente potrebbe risolvervi i problemi con molti Joy-Con che magari avete dovuto lasciar perdere proprio a causa del drift. Avete avuto il drift? Ora lo potete risolvere con questo semplice metodo. Ovviamente io ringrazio VK per aver fatto, per aver trovato una soluzione del genere tanto semplice quanto efficace. Io vi ringrazio voi ovviamente per aver visto il video fin qui, vi ricordo di supportarlo con un like e iscrivendovi se vi interessa Nintendo e Nintendo Switch. Se questa situazione del Joy-Con drift Nintendo non la vuole risolvere, basta aspettare l'utenza, basta aspettare gli utenti per capire che cosa si può fare. Io vi ringrazio e noi ci vediamo, al prossimo video. Io vi ringrazio e noi ci vediamo.